Scuola Collodi, al Polo del Campaccio proseguono le opere necessarie alla demolizione parziale dell'edificio e salva la diacente palestra che verrà invece riqualificata, in vista della ricostruzione della sede scolastica e il completamento di tutti i lavori tra più di due anni. Per la ricostruzione infatti si procederà per lotti funzionali, che in tutto sono tre. Il primo per la realizzazione di due sezioni per un importo di 1.700.000 euro, di fondi regionali più avanzi di amministrazione dal 2010 fino ad oggi. Il secondo per una terza sezione per 1.020.000 euro, il terzo lotto per la mensa, la biblioteca e altri interventi per un importo di 950.000 euro. Lavori di demolizione e di ricostruzione voluti dall'amministrazione Polcri che verranno eseguiti nel corso di quella Frullani per consentire il ritorno degli allievi della primaria Collodi in una sede più grande. Dopo i lavori di bonifica alla copertura per 14.500 euro e quelli di bonifica a demolizione della vecchia cisterna per 2.600 euro, si procede spediti verso la demolizione parziale della struttura. Di questi giorni l'approvazione lavori di demolizione parziale edificio esistente, parte strutturale, approvazione del progetto esecutivo, avvio di procedura di fidamento e approvazione della lettera d'invito. Si è però reso necessario procedere ad una ridefinizione del progetto riguardante la demolizione strutturale e in base al progetto esecutivo, ridatto lo scorso 20 marzo dal Servizio Lavori Pubblici del Comune Bitorgenza, l'importo complessivo dei lavori è di 83.000 euro, ritenuto di procedere all'affidamento dell'intervento mediante la procedura negoziata adottando il criterio di affidamento del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara. L'importo complessivo è quindi di oltre 75.000 euro, una spesa che rientra all'interno dell'otto 1 nella parte prevista per la demolizione dell'edificio esistente, trovando la necessaria copertura finanziaria utilizzando i fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione 2010, appositamente stanziati per oltre 117.000 euro appunto dall'amministrazione comunale precedente.